Il significato importante penso che sia quello di venire alla Maglia però sicuramente è un onore fare parte di questa iniziativa e sicuramente vengo a rappresentare la Maglia della Maglia però la cosa più importante è che tutti aderiscano e che soprattutto venga tantissima gente a stare Grazie a tutti In spagnolo, solamente, che significa para voi argentino?